6 anni. 220 partite e 138 gol dopo. Mohamed Salah si prepara a lasciare il Liverpool. L'egiziano. Arrivato dalla Roma nel 2017. Stato uno dei migliori acquisti della storia dei Reds oltre a vincere ogni trofeo. Dalla dalla Premier League alla Champions League. È diventato una leggenda del club del Mercy. Ma tutte le storie dell'amore finiscono e anche Salah. Intrappolato dalle sirene saudite. Sta per salutarsi infatti a un passo dalla Alitiad di Nuno Espirito Santo e Karim Benzema. 100 milioni sul mercato in Liverpool. Riceverà circa 100 milioni euro costo del suo cartellino. Il giocatore l'ennesimo contratto triennale da record con Salah, che si recherà Arabia Saudita. Completare le visite mediche firmare già nei prossimi giorni. Nonostante gli arrivi McAllister. Endo Sobosla e la presenza in rosa giocatori grado sostituire al meglio l'egiziano. Come Luis Diaz. Gakpo Diogo Jota. Liverpool intende tornare sul mercato acquisire un esterno offensivo. Da Sané e A.D.E.Y.E.M.I.A. Chiesa i nomi sono quelli Liroy Sané del Bayern Monaco. Viaggio con i bavaresi desideroso tornare giocare in Premier League per riavvicinarsi alla famiglia. Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Che piace molto a Jurgen Klopp. E soprattutto Federico Chiesa della Juve. Già seguito passato dai Reds valutato intorno ai 60 milioni euro dai bianconeri. Che ora temono un assalto negli ultimi giorni contrattazioni. Anche se la volontà è quella da mantenere. La Nazionale Italiana.